crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza l'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita per sempre noi cambieremo il mondo ma non lo faremo da soli vogliamo fare la nostra confessione di fede ci prepariamo per questa benedetta parola e questa parola che ha fatto il tutto nella nostra vita e può fare tutto anche per te che sei per la prima volta questa è la mia Bibbia io sono quello che dice che sono io ho quello che dice che ho io posso fare quello che dice che posso fare la mia mente è libera il mio spirito è recettivo oggi io ricevo il seme incorruttibile indistruttibile seme della parola di Dio non sarò mai lo stesso mai 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 non sarò mai lo stesso nel nome di Gesù Amen Accomodatevi e salutate chi è dietro voi il viaggio è lungo con questo messaggio è la quarta puntata la mettiamo ecco è la quarta puntata e vedrò se ci sarà la quinta e poi mi fermerò ok capitolo 4 di Apocalisse o Rivelazione dal verso 1 al verso 11 e il verso 3 è quello che la chiave del messaggio chi ci può leggere la Bibbia vediamo un po' vediamo un po' ecco Marius dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito subito fui rapito dallo spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico e intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo dal trono uscivano lampi voci e tuoni davanti al trono voci e tuoni davanti al trono c'erano sette lampade accese che sono i sette spiriti di Dio davanti al trono inoltre c'era come un mare di vetro simile al cristallo in mezzo al trono e intorno al trono quattro creature viventi pieni di occhi davanti e di dietro la prima creatura vivente era simile a un leone la seconda simile a un vitelo la terza aveva la faccia come due d'un uomo e la quarta era simile a un'aquila mentre vola ogni volta che queste creature viventi rendono gloria onore e grazie a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli i ventiquattro anziani si prostarono davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo tu sei degno o Signore e Dio nostro di ricevere la gloria l'onore e la potenza perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono il verso centrale è il verso 3 che dice colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico e intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smerardo entriamo ci addentriamo alla parola che abbiamo letto partiamo siete pronti? ok dopo queste cose vide una porta nel cielo la prima porta la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse uno squillo di tromba e questa parola squillo di tromba c'è nell'antico testamento ci sono c'erano le trombe andiamo a leggerli in esodo 19 16 il terzo giorno come fu mattino ci furono tuoni nel monte di Sinai lampi e una fitta nuvola sul monte e si udì un fortissimo suono di tromba questa parola tromba è shofar va bene e il shofar che cos'è? il corno del montone il montone doveva essere ucciso e il suo corno con il suo corno si suonava ed era la tromba del patto ok tutto il popolo che era nell'accampamento tremò poi andiamo a leggere Levitico 25 9 poi il decimo giorno del settimo mese farai squillare la tromba e anche qui è shofar cioè la tromba del patto il giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese chi non ha imparato a sentire la tromba la voce del patto non sentirà la voce del rapimento solo un bambino un neonato che ha sempre sentito la voce della mamma sentirà e conoscerà la voce della mamma anche dall'altra parte del muro ma se non ha mai sentito la voce della mamma e dall'altra parte la mamma lo chiama Giuseppe Giuseppe lui piange dice che che terrore chi è questo numeri 10 2 fatti due trombe qui è un altro nome non è shofar e hazzosera shofar è la tromba di un animale shofar tromba del patto la voce del patto ma poi c'erano due trombe d'argento interessante molto interessante seguitemi dice Dio a Mosè numeri 10 2 fatti due trombe d'argento le farai d'argento battuto l'argento che cosa rappresenta la redenzione la liberazione dalle tirannie dalla schiavitù la redenzione ci ha liberati come ci ha liberati perché questo argento è battuto e Gesù sulla croce è stato battuto per la nostra liberazione per la nostra redenzione oggi siamo liberi perché cosa serviva ti serviranno per convocare la comunità la prima tromba serviva per convocare l'assemblea ossia applicabile per noi quando tu fai un incontro di chiarimento un incontro di riunione perché c'è una discussione perché non ci siamo capiti allora facciamo la riunione prima fate voi la riunione e non siete in accordo poi venite da me e facciamo la riunione giusto non vi scandalizzate è così nelle chiese si fanno riunioni attenzione quando si fa un incontro cioè quando si suona la tromba prima che io faccio l'incontro devo sapere la voce della tromba che mi dice sei redento e quando farai la riunione parlerai da redento non da accusatore non da accusatore non vai lì a dire ho ragione io tu fai schifo tu sei carnale no devo solamente parlare chiarire sapendo che sono redento ok bene il secondo la seconda tromba che cosa serviva per fare muovere l'accampamento interessante ci sono riunioni non è nel nostro caso ci sono riunioni che si fanno delle riunioni che si discute con la prima tromba si suona la tromba di redenzione voglio chiarire voglio discutere si chiarisce ok capito si ti chiedo scusa finito ok andiamo a casa si va a casa però però mi ha detto così però niente perché c'è la tromba del cammino di redenzione io quando esco da quella riunione la tromba la seconda tromba suona che mi dice sei libero quella riunione il caso è chiuso e da libero mi muovo sotto la voce della tromba d'argento che mi dice il caso è chiuso quando curiamo le persone mettiti tu in discussione per insegnargli altri non direi fatto sai anche io sbaglio dovresti fare così anche io quando ho sbagliato ho fatto così e non si mette in crisi la persona che ha sbagliato perché siamo molto facili a mettere in crisi le persone però poi dopo quando gli altri ci mettono in crisi noi andiamo sotto crisi quando tu hai Cristo hai avuto hai fatto entrare Cristo nella tua vita ebbene sai la voce di Dio sai l'amore di Dio la compassione di Dio la misericordia di Dio lo senti lo vivi lo vivi allora qualsiasi riunione che farai sentirai come ricordo come ricordo sentirai la prima voce la tromba dell'argento per fare una riunione in pace e poi per uscire in pace invece ci sono famiglie parenti eccetera fanno discussione si scannano prima lettera di Tessalonicesi che Paolo scrive capitolo 4 verso 16 e 18 perché il Signore stesso ecco qua dunque è la tromba di Shofar è la tromba del patto perché nel Sinai abbiamo letto che era la tromba Shofar è suonato da Dio perché il Signore stesso con un ordine con voce ad Arcangelo cioè come capocomandante e con la tromba di Dio eccolo qua Shofar scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre di sempre sempre con il Signore consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole dunque se stai passando difficoltà che non riesci a pagare l'affitto consolati domani non ci sarà da pagare l'affitto andiamo avanti un verso prima il verso del testo dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito subito fui rapito dallo spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico io ho preso una pietra la matiste cosa vedete qui vedete qualcosa una pietra comune giusto? vedete è una pietra normale dove sembra una pietra non preziosa ma perché diventi preziosa questa pietra perché stiamo parlando di pietra di diaspro e di sardonico poi pietra questa pietra per essere una pietra preziosa deve essere spaccata non solo deve essere spaccato poi deve essere pulito tutto l'esterno e cioè la nostra attitudine per Dio noi siamo preziosi perché Dio vede dentro il tuo e il mio cuore e dice wow che pietra splendente che sei ma noi invece vediamo dall'esterno cosa vediamo? la bruttura la schifezza allora veniamo in chiesa veniamo al gospel adorando Dio sentendo il messaggio della parola di Dio gli insegnamenti della parola di Dio ecco noi iniziamo a pulire l'esterno cioè l'attitudine la nostra attitudine incomincia a smussare di qua di là di là ma ci vuole tempo ci vogliono anche esperienze perché se io non discuto con il pastore Michi e non litigo con il pastore Michi non conosco il mio carattere io per conoscere il mio carattere devo passare una storia un problema per conoscere chi sono quando tu fai un incontro con qualcuno e hai una discussione non devi andare per scoprire il suo errore ma devi andare per scoprire chi sei tu dunque non è stato un tuo nemico che ti ha oh ti venisse un accidente i mortecci tuoi no 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 lui ti sta scoprendo chi sei tu e allora è così che tu impari a dire oh guarda l'istinto no poi ho detto oh mamma mia guarda che roba devo migliorare devo devo ascoltare un po' di più la parola devo stare alla presenza di Dio di più andiamo a vedere prima leggiamo esodo 28 17 20 abbiamo parlato delle pietre perché hanno visto cioè ha visto Giovanni cosa ha visto pietra di aspro e sardonico benissimo e queste pietre erano messi come pettorale 12 pietre con i nomi incisi nel pettorale del sommo sacerdote ok vi incastrerà vi incastonerà una serie di pietre quattro file di pietre nella prima fila ci sarà un sardonio un topazio e uno smeralto nella seconda fila un rubino uno zaffiro un calcedonio nella terza fila un opale un agata un ametista nella quarta fila un crisolito un onice e un diaspro vedi queste pietre saranno incastonate nelle loro montature d'oro dunque sono 12 pietre diverse lavorate spaccate lavorate ma diverse tu non puoi essere uguale a me e non ti voglio per favore siamo diversi io non devo farti come me assolutamente tu non devi pretendere che devo essere come te assolutamente siamo diversi e nella nostra diversità va bene completiamo l'opera di Dio ok adesso andiamo a vedere un attimino notate che qui inizia Sardonio e finisce Diaspro giusto? perfetto andiamo a vedere il pettorale del sommo sacerdote la foto ok allora le lettere si scrive si legge nell'ebraico da destra a sinistra giusto? ecco allora bravissimo wow guardate il colore rosso si parte da destra a sinistra no? gli ebrei leggono da destra a sinistra perché da destra a sinistra? perché si inizia sempre dalla forza bene allora il rosso inizia il rosso e finisce con il bianco ok che cosa mi rappresenta? rappresenta il sacrificio di Gesù il sangue di Cristo che ci fa puri puliti nell'antico testamento dunque era il primo nel nuovo cioè Giovanni quello che vede che cosa vede per primo? allora vedi che lui Giovanni vede prima il colore bianco e poi il sangue dunque Giovanni nel nel in cielo vede l'opera è perfetta è compiuta perché è bianco perché è bianco perché in fondo il sangue ha purificato il tutto bellissimo ci addentriamo un pochino dentro sardonio sardonio è rosso sardonio è rosso ok è diaspro è bianco ok adesso leggiamolo perché questi queste pietre dodici pietre hanno ognuno il nome della tribù giusto perfetto eccolo qua lui che il sacerdote aveva prima sardonico rosso che è Ruben Ruben che cosa significa ecco il figlio nella Bibbia tu scoprirai sempre che qualsiasi cosa che leggerai nella storia nelle vicissitudini nelle problematiche nelle esigenze nelle battaglie eccetera nell'antico testamento tu vedrai in codice vedrai sempre Gesù tra le righe e se tu hai il nuovo patto lo vedrai e lo leggerai sopra le righe e scoprirai allora Ruben significa ecco il figlio diaspro bianco il nome è beniamino il figlio della mia destra allora nell'antico testamento Dio diceva ecco il figlio che diventerà il figlio della mano destra nel nuovo cioè Giovanni vede che cosa vede andiamo avanti Giovanni che cosa vede diaspro bianco beniamino il figlio della mia destra il figlio della mia destra l'opera è compiuta ecco il figlio adesso godetelo andiamo avanti è intorno il testo è intorno al trono c'era un arcobaleno un arcobaleno tutto attorno dice tutto attorno al trono c'era l'arcobaleno l'arcobaleno nell'antico testamento e anche adesso la storia ci dice che è a metà invece Giovanni lo vede tutto attorno completo infatti nell'antico testamento la grazia di Dio la misericordia di Dio era a metà non era per tutti la grazia era a metà adesso invece lui vede la grazia completa per tutti nessuno è escluso di io non sono escluso sono incluso anche se non hai letto la Bibbia anche se leggi poco e capisci poco non c'è problema hai ricevuto Gesù nel tuo cuore bene tu sei incluso nel regno di Dio allora andiamo a leggerlo Isaia 54 7 9 scusatemi 53 per quanti leggono la Bibbia è la descrizione precisa perfetta del sacrificio di Gesù andate a casa leggete Isaia 53 vedrete la descrizione perfetta addirittura dove lo mettono nella sua tomba perfino la sua tomba è descritto favoloso non c'è da discutere 54 subito dopo dice per un breve istante io ti ho abbandonata ma con immensa compassione io ti raccoglierò in un accesso cioè in un'ondata di ira Dio dice qui in un'ondata di ira cioè appena lo incontra ahhh perché quando Dio vedeva il peccato non poteva trattare a rilento appena vedeva il peccato l'ira si accendeva l'ondata di ira c'era perché non poteva sopportare il peccato per questo Gesù è venuto per morire per questa causa non aveva l'ira lenta crescente era l'ira violento ok e dice bellissimo in un'ondata di ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia ma con un amore eterno io avrò pietà di te dice il Signore il tuo Salvatore avverrà per me come delle acque di Noè poiché come giurai che le acque di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra così io giuro di non irritarmi più contro di te e di non minacciarti più l'arco è completo intorno al trono c'era un arco baleno che a vederlo era simile allo smeraldo smeraldo il corone è verde ok è verde andiamo al Salmo 23 2 allora sentite cosa dice questo Salmo è corto è bello egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli verde pochi anni fa hanno scoperto che il colore verde ti fa riposare rilassare lo si sapeva già da tempo i scienziati vengono dopo di noi dopo la Bibbia se l'abbiamo scoperto ma noi lo sapevamo perché Dio ha voluto e vuole che dove ti giri ti giri devi vedere riposo Cristo opera completa che bello ok al testo attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo l'abbiamo già trattato dal trono uscivano lampi voci e tuoni davanti al trono c'erano sette lampadi anche questo l'abbiamo trattato il candelabro sette spiriti lampade accese che sono i sette spiriti di Dio davanti al trono inoltre c'era come un mare di vetro simile al cristallo questo lo voglio trattare il tabernacolo se mi puoi far vedere la foto del tabernacolo bravo allora questo abbiamo e questo qua quello che vi faremo vedere ok ci siete ok la conca tutto di rame di bronzo fatto sia il piedistallo di bronzo e la conca era di bronzo tutto di bronzo bronzo che cosa rappresenta giudizio ma all'interno attenzione all'interno c'erano gli specchi c'erano gli specchi e poi ci mettevano l'acqua per lavarsi interessante che questi specchi da dove l'hanno preso l'hanno preso dall'Egitto dunque ogni volta che al tabernacolo andiamo al tabernacolo ogni volta che sacrificavano l'animale ed erano sporchi le loro mani erano sporche andavano a lavarsi erano sotto il giudizio e si guardavano con lo specchio dell'Egitto e mi ricordo Egitto va alla preghiera nel sacrificio alla preghiera Gesù grazie Signore che sei morto per me grazie grazie poi si alza e quando manovra vive quotidianamente incombe sempre il suo passato Egitto Egitto giudizio accuse accusa contro te stesso accusa contro gli altri e ti vedi sempre Egitto 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 Giovanni vede davanti al trono c'erano come un mare di vetro simile al cristallo non più bronzo limpido puro fatto da Dio e non più dall'Egitto secondo re 1716 il re Acas spezzò anche i riquadri delle basi ecco le basi sono di bronzo e ne tolse le conche che c'erano sopra fece togliere il mare di bronzo che cosa aveva visto da sopra? mare di cristallo dice il mare di bronzo di sopra i buoi di bronzo che servivano da sostegno e lo posò sopra un pavimento di pietra dunque tutto bronzo sostegno bronzo specchio ricordo il passato terribile c'è gente che vive del suo passato il testo in mezzo al trono e intorno al trono quattro creatori viventi pieni di occhi davanti e dietro è quello del la prima creatura vivente era simile a un leone la seconda simile a vitello la terza aveva la faccia come un uomo d'un uomo e la quarta era simile a un'aquila mentre vola e le quattro creature viventi avevano sto finendo ognuna sei ali ed erano coperte di occhi tutto intorno e di dentro e non cessavano mai di ripetere giorno e notte santo 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 tre volte santo perché Dio è trino in uno io sono spirito perché questo devi sapere perché altrimenti la morte ti fa spavento ti fa paura la morte perché pensi che finito è finito il mio corpo è finito no tu non sei corpo tu sei spirito sei eterno sei spirito infatti Dio ha baciato Adamo gli ha soffiato bene io sono spirito ho l'anima perché ho l'anima io posso comunicare attraverso il corpo comunico con voi una persona in tre stessa cosa è Dio ok dove eravamo ecco diceva santo 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 è il Signore il Dio onnipotente che era che è che viene che bellissimo dunque ogni volta che queste creature viventi rendono gloria onore e grazie a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli i ventiquattro anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano il loro corone davanti al trono dicendo tu sei degno o Signore Dio nostro di ricevere gloria onore e la potenza perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono creati ed esistono faccio questa considerazione e finisco noi quando diciamo gloria a te Signore cosa intendiamo quando noi diciamo onore a te cosa intendiamo cosa ci vuole dire lo diciamo così per dire no questo questi passaggi ci insegna cosa significa realmente quando tu dici Signore gloria a te gloria a te tu pensi che lui ha bisogno ci sono tutti miriadi di angeli che lo stanno lodando ma è un insegnamento bellissimo insegnamento quando Gesù è venuto per liberarci dal peccato ha lasciato la sua gloria la sua gloria ha lasciato è diventato uomo per darci gloria a noi giusto? bene quando tu dici che cosa è gloria la seconda definizione la prima definizione la sappiamo corretta opinione di Dio la prima la seconda è gloria cioè tutto ciò che possiedi cosa possiedi? la macchina bella la casa bella il conto in banca non lo so la casa la villa al mare eccetera questa è la gloria dell'uomo quando tu dici gloria a te gli stai dicendo tutto ciò che posseggo è tuo allora ricordatevi quando noi rendiamo gloria a Dio gli stiamo dicendo signore io do tutto quello che posseggo è tuo perché tu mi hai dato l'opportunità per la salute per l'intelligenza per le coordinazioni combinazioni divine tu mi hai fatto prosperare per le combinazioni divine mi hai fatto prosperare allora tutta la gloria è tutto tuo me l'hai dato ma è tutto tuo signore ok onore che cos'è l'onore quando tu dici onore a te abbiamo letto onore a te le persone vengono ti dicono grazie che mi hai aiutato ti apprezzo e ti onoro la Bibbia dice date doppio onore agli anziani ai responsabili eccetera l'onore che noi ci diamo gli uni e gli altri ci onoriamo gli uni e gli altri giusto? perché tu non ti gonfi dagli onori degli uomini prendi gli onori lo do a te onore perché è grazie a te che gli onori che sto ricevendo e allora onore a te oddio è bello sentire che qualche d'uno ti onora ti dice pastore grazie sei stata una benedizione bellissima io lo ricevo non faccio il falso umile grazie grazie lo ricevo poi è davanti a Dio e gli dico grazie a lui e ho finito voi che mi avete seguito nel youtube io voglio lasciare sempre questo messaggio di conclusione augurandovi e augurandoti che tu possa conoscere Gesù il centro della vita il centro dell'universo è Gesù che tu possa conoscerlo invocalo cercalo con tutto il cuore egli ti visiterà non c'è bisogno che devi venire qua per conoscere Gesù anche nella tua camera nella tua stanza cercalo ed egli ti visiterà Dio ti benedica amè crediamo crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza l'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita per sempre noi cambieremo il mondo ma non lo faremo da soli per la vita è un'unico che non lo faremo per la vita per la vita per la vita Grazie a tutti